Il gruppo consigliere di Forza Italia ha proposto alla giunta del sindaco Luzzo di prendere provvedimenti contro chi pratica l'accatonaggio in maniera molesta davanti ai market e nelle strade. Il tutto nasce dal fatto che da parecchio tempo lamentano i consiglieri di Forza Italia che i giovani stranieri chiedono l'elemosina, a volte in modo piuttosto insistente, infastidendo i passanti e i clienti dei negozi e magari tra le mani hanno smartphone nuovi fiammanti. La mozione presentata intende risolvere al più presto questa situazione, inserendo nel regolamento della Polizia Urbana una norma che preveda l'applicazione di sanzioni a chi esercita l'accatonaggio molesto e inoltre si chiede di utilizzare i servizi comunali insieme alle forze di polizia per effettuare controlli su persone che chiedono l'elemosina senza essere in condizioni di effettiva povertà. Ciò, affermano i consiglieri, anche per evitare che chi pratica l'accatonaggio possa alterare la percezione che le persone hanno della sicurezza pubblica. Nella giornata di ieri la motonave Lady Bo, unità portarinfuse battente bandiera panamense e con equipaggio di 17 persone di diverse nazionalità, in prevalenza a Zera e Ucraina, è stata trattenuta in porto ad Oristano a seguito di un'ispezione condotta dal team specializzato della Capitaneria di Porto per evidenti problemi relativi alla sicurezza della stessa. L'attività condotta dagli ufficiali del nucleo ispettivo della Guardia Costiera ha accertato gravi carenze da parte dell'equipaggio, che nel corso di un'esercitazione dimostrativa ha evidenziato una mancata familiarità e dimestichezza con le necessarie procedure di sicurezza a bordo. Il controllo da parte dei militari ha consentito inoltre di individuare delle gravi deficienze per la tutela dell'ecosistema marino. In particolare è stato riscontrato il mancato funzionamento di due importanti apparati di sicurezza in sala macchine, come il separatore di acque oleose e l'allarme per eventuali colaggi di combustibile sul motore principale. Oltre a queste, sono state trovate danneggiate la linea antincendio principale, alcune tubazioni a doppio rivestimento all'interno, delle quali scorreva combustibile per l'alimentazione del motore principale e dei generatori di bordo, oltre che i sistemi di chiusura e copertura delle stive, fondamentali per evitare l'ingresso di acqua e per assicurare le previste condizioni di stabilità alla nave. Nel corso della curata e dettagliata ispezione, inoltre, è stata riscontrata l'errata compilazione del registro degli idrocarburi, sul quale non erano stati annotati la quantità del combustibile imbarcato e i metodi di conferimento degli oli esausti a terra, registrazioni importantissime sotto il profilo ambientale. Infine, la sala macchina è stata trovata in pessime condizioni di pulizia, a causa dei numerosi colaggi di olio e acque oleose dagli apparati di bordo. L'unità mercantile, arrivata ad Oristano dal porto ucraino di Reni, per sbarcare una quantità di circa 5.000 tonnellate di farina di semi di girasole in pellets, è stata quindi sottoposta a fermo amministrativo e potrà riprendere la navigazione soltanto dopo aver ripristinato le necessarie condizioni per una sicura navigazione in mare ed essere stata sottoposta ad una nuova visita di controllo da parte del team ispettivo della Guardia Costiera. Listini, accessori, tempi di consegna, finanziamenti, sconti, incentivi, burocrazia, internet. Siamo lontani dai tempi in cui la Fiat 500 motorizzava in fretta e furia ed era facilmente acquistabile anche dagli studenti universitari privi di stipendio con semplici cambiali a loro dedicate. Acquistare un'auto nuova al giorno d'oggi probabilmente non significa neanche sacrificare il giorno libero per girare tra i piazzali dei venditori, in quanto è nato un proliferare delle ditte online che permettono di effettuare la scelta e l'acquisto anche a mille chilometri di distanza grazie ai siti di vendita dedicati senza alzarsi un secondo dal divano e ricevendo l'auto dopo pochi giorni direttamente a casa grazie alla capillare e rette di trasporti dedicati. Gli italiani che cercano in rette quale automobile acquistare vogliono spendere mediamente 22.800 euro. Il dato emerge da un'analisi effettuata dall'osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale Drivic, specializzato nella configurazione di veicoli nuovi. Si tratta di una cifra che permette oggi l'acquisto di un ampio ventaglio di macchine di piccole e medie dimensioni, dalle berline compatte alla station wagon, dai SUV alle monovolume. Tra il nord e il sud del paese sussiste un divario di budget di ben 4.900 euro. Se a chiedere il preventivo online è un uomo, la cifra media a disposizione è di 23.800 euro. Se una donna, questa cala sensibilmente sino a 18.000 euro. 19.300 euro è questa la cifra media che le famiglie della provincia di Uristano puntano a spendere nel momento in cui decidono di acquistare un'auto nuova. In merito a questi dati, Marco Marlia, fondatore e CEO di Motork, società proprietaria del portale Drivic, sottolinea. L'uso dei car configurator è un punto di partenza per capire a quale veicolo possono ambire con il budget di cui dispongono. Le fasi successive in cui entrano in gioco i concessionari, le offerte e gli eventuali finanziamenti andranno a modificare la scelta iniziale e in molti casi a ridurre il costo del veicolo acquistato. Secondo le nostre analisi, il 57% degli utenti che cercano un'auto online andranno ad acquistare un'auto diversa dalla loro prima scelta. Gli ospedali italiani diventano sempre più rosa e all'insegna della medicina di genere. Sono infatti 306 per il bienio 2018-2019 quelli premiati con il bollino rosa, il riconoscimento assegnato dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, alle strutture impegnate nella promozione della medicina di genere e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Insieme all'ospedale San Martino di Oristano sono stati altri tre gli ospedali dell'azienda per la tutela della salute della Sardegna che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, il Santissima Trinità di Cagliari e il San Francesco di Nuoro che hanno ricevuto tre bollini e il Giovanni Paolo II di Olbia con un bollino. Il nosocomio oristanese si è distinto per l'ampia offerta di servizi all'interno dell'unità operativa di ginecologia ostetricia in cui sono presenti un pronto soccorso ostetrico-ginecologico, ambulatori per la diagnosi e cura dell'endometriosi, cisti ovariche e tumori dell'endometrio, percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie del pavimento pelvico e uroginecologiche benigne, quelli dedicate alla gravidanza fisiologica e a rischio per la prevenzione del parto pretermine, per il dolore cronico postpartum, per l'ecografia e la diagnosi prenatale. Alle gestanti, grazie alla collaborazione con l'unità di anestesia e rianimazione, è offerta la possibilità di effettuare il parto in dolore gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quella di donare il sangue cordonale, mentre le neomadri possono beneficiare del contatto precoce con il neonato in sala parto e trascorrere gran parte del tempo con il bambino accanto durante il periodo di degenza. Altro punto di forza del San Martino è l'attenzione dedicata alle donne che rischiano di sviluppare o che hanno già sviluppato il diabete in gravidanza. Di fondamentale importanza anche il percorso di assistenza e accoglienza per le donne vittime di violenza attivato dal pronto soccorso. Alle donne che hanno subito lesioni o maltrattamenti viene assegnato uno speciale codice rosa, che permette la presa in carico delle pazienti da parte di personale specificamente formato in spazi riservati ed in rette con altri servizi del territorio che offrono sostegno alle vittime di violenza. Oggi ci troviamo all'interno dell'impresa agricola del signor Daniele Cossu. Daniele Cossu è un apicoltore, quindi si occupa della produzione del miele e in primis veramente delle api. Sì, la nostra azienda è una conduzione familiare, oltre me ci lavora mio fratello e delle volte anche i genitori danno una mano. Il nostro reddito prevalente quindi arriva dal lavoro delle api, quindi produzione di miele, papa reale, polline, propoli e allevamento anche di api regine. La situazione in questi ultimi anni non è molto incoraggiante perché i problemi in apicoltura sono tanti. A parte i parassiti delle api ci si mette anche l'ambiente e oltre all'ambiente anche l'uomo che con l'agricoltura intensiva, quindi i pesticidi, contribuiscono a rendere la nostra attività molto difficoltosa. Proprio sulle api, come ha detto lei, purtroppo c'è stato un cambiamento, ci sono dei cambiamenti climatici, ma cosa sta succedendo alle api? Come la stanno affrontando? Ma sì, sicuramente i cambiamenti climatici influiscono su queste difficoltà che stanno affrontando le api. A livello mondiale c'è questa situazione che un po' l'uomo, un po' l'andamento fisiologico del pianeta sta contribuendo a creare gravi problemi alle api. Oltre a questo ci sono i parassiti delle api e anche i pesticidi che influiscono in questa situazione. Quindi tutto questo mix di problemi fanno sì che le api sono in pericolo, se così possiamo dire. Voi lo conoscete nel dettaglio questo insetto, quindi cosa fate affinché le api, perché sappiamo che esistono due tipi di api, le api operaglie e l'api regina. In che modo voi vi comportate? Cosa state facendo? Che metodi utilizzate per salvaguardare? Noi utilizziamo le tecniche della conduzione razionale degli alveari, quindi cerchiamo di produrre un reddito, quindi portare le api a fare un raccolto e a ottenere quindi dei prodotti che possono darci da vivere. Ovviamente oltre a questo aspetto che interessa la nostra vita degli apicoltori c'è anche la vita dell'ambiente, perché senza le api diciamo che l'ambiente non può andare avanti. L'ape è una sentinella dell'ambiente, se ci sono dei problemi noi ce ne accorgiamo perché le api vengono a mancare, muoiono e quindi l'ambiente capiamo che non è sano. Noi come apicoltori possiamo fare poco, è l'uomo inteso come sistema mondiale che deve cambiare un po' la situazione, quindi limitare l'uso dei pesticidi sicuramente e poi anche a livello più importante non posso dire prevenire ma in qualche modo limitare le emissioni di gas e quindi questo cambiamento climatico che è un problema sicuramente non facilmente risolvibile. Voi avete seguito dei corsi per fare questo lavoro? Certamente, noi come imprenditori, quindi come apicoltori professionisti puntualmente ci aggiorniamo, non è solo una formazione iniziale di cui abbiamo bisogno come categoria, ma anche un continuo come dire, aggiornarsi, confrontarsi con gli altri colleghi e niente, anche confortarsi perché in questi ultimi anni ci si sente soprattutto per capire se questo lavoro avrà un futuro oppure no perché la situazione sta diventando veramente drammatica. Quindi siete a contatto anche con altri apicoltori, sardi? Sì, ultimamente abbiamo costituito un'associazione di apicoltori professionisti che uniti hanno abbiamo l'obiettivo quindi di relazionarci con le istituzioni, cioè quindi non proprio un sindacato ma un'unione di professionisti che portano la loro voce alle istituzioni affinché ci possa essere un punto d'incontro per trovare delle soluzioni o dei progetti da sviluppare per il settore. Diciamo, siamo una categoria abbastanza unita dal punto di vista che ci sentiamo, ci confrontiamo spesso poi ripeto, sono anche le istituzioni che devono venire incontro alle esigenze degli apicoltori. Voi state già ricevendo dei fondi da parte della regione? Purtroppo no, la nostra categoria, se voi andate anche a vedere il PSR, il piano di sviluppo rurale, troverete tra le varie categorie, settore ovicaprino o meglio ceriaricolo eccetera eccetera la categoria apicoltura la trovate in fondo alla classifica non con la voce apicoltura ma con la voce altro. Quindi siamo considerati in modo abbastanza poco considerati se vogliamo. Ma noi sicuramente siamo una categoria che produce non solo un reddito quindi delle buste paga per chi ci lavora ma anche un servizio per l'ambiente. Quindi dovremmo essere una categoria diciamo considerata un po' meglio. Per quanto riguarda la produzione del miele si è saputo praticamente tramite i dati statistici che si è passati da 15.000 tonnellate di miele a 7.000 o anche meno. Quindi la vendita del miele oggi come sta andando? La vendita sta andando molto bene perché il prodotto è scarso quindi non essendoci una quantità disponibile nel mercato ovviamente viene venduta tutta. Il problema come avete capito è produrre in queste condizioni. Questi ultimi tre anni sono stati proprio molto avari di produzione, molto scarsi e quindi anche produrre un reddito diventa difficoltoso. Questi ultimi tre anni io faccio questo mestiere da 15 anni quindi posso sentire i racconti degli apicoltori storici, quelli che hanno una memoria più lunga della mia. Sentendo i loro racconti raccolti in quegli anni erano eccezionali. Siamo arrivati in queste annate con dei raccolti molto molto più bassi rispetto a quelli dei nostri apicoltori, dei nostri maestri se così li possiamo chiamare. Una soluzione azzardata nel senso si può risolvere il problema oggi. Cioè nel senso le api difenderle quindi l'uomo deve fare la sua parte. Quindi affinché il clima diciamo non continui a danneggiare, l'uso dei pesticidi diminuirlo. Queste potrebbero essere le soluzioni del problema? Ma le soluzioni diciamo non c'è una ricetta che salva dall'oggi a Dolmani che risolve la situazione. Le soluzioni sono tante, c'è tante. Bisogna agire in diversi modi. Sicuramente limitare l'uso dei pesticidi. Quindi ci sono anche delle petizioni a livello europeo, delle associazioni di apicoltori europei che stanno lavorando in questo modo, facendo pressione affinché vengano banditti se non altro i pesticidi più pericolosi per le api. Quindi parliamo di neonicotinoidi, glifosate che è un diserbante molto pericoloso, ma non solo per le api, anche per tutto l'ambiente e anche noi esseri umani. Questo è il primo passo. Poi certo a livello globale questa situazione del cambiamento climatico, questa è una cosa se vogliamo anche meno controllabile perché l'uomo si può intervenire limitando sempre le sue attività pericolose, però diciamo che non è un processo sicuramente semplice. Quindi nell'immediato sicuramente è limitare i pesticidi e poi lavorare in modo razionale a livello professionistico, questo sicuramente. Ci sono molti giovani che oggi decidono di fare determinati lavori. Il lavoro dell'apicoltore può essere un'opportunità oggi? Può essere un'opportunità, sì. Tanti giovani stanno cercando di avvicinarsi a questo mondo con la speranza di ottenere un reddito e quindi un futuro per la propria vita. Il problema è che non è un lavoro semplice, non è un lavoro immediato. Oggi si inizia e domani stai raccogliendo e quindi stai facendo un reddito. È un lavoro che richiede prima di tutto tanta passione perché se non c'è la passione non hai neanche la capacità di apprendere e di sviluppare il lavoro nel senso professionale. Un giovane che non ha la passione sicuramente ai primi problemi abbandona e quindi non porta avanti l'attività. Questo è sicuro. Le possibilità ci sono, ci sono anche vari modi di fare apicoltura. Non solo apicoltura da miele, si può fare apicoltura da carne. Per carne intendo la produzione di sciami per la vendita, piregine. C'è un mercato abbastanza interessante anche su questo. Ripeto, bisogna comunque sviluppare e creare questa professionalità che purtroppo non è sempre così semplice. Quindi giorno e notte si occupano delle sue api. Anche la notte, esatto. Perché soprattutto la notte? Per chi non ha conoscenza di questo mondo? La notte si riflette, si pensa, si studia, si prende il telefono e si chiamano gli altri apicoltori per capire come sta andando la situazione. La nostra attività ti coinvolge 24 ore su 24. Anche nel mondo dei sogni penso che stiamo lì a ragionare e cercare di capire cosa fare per far star bene le api e per quindi far star bene anche noi. La vostra azienda ha già ricevuto dei riconoscimenti? Sì, diciamo che ci sono vari concorsi a livello italiano e anche sardo. Noi puntualmente partecipiamo con i nostri mieli e ogni tanto riusciamo anche a piazzarci con dei buoni riconoscimenti. L'ultimo, il premio Piana, che è il concorso più importante a livello italiano sul miele, abbiamo preso le due gocce d'oro. Le due gocce d'oro sul miele di cardo e di corbezzolo. È un riconoscimento che ti dà soddisfazione e che gratifica quindi la tua attività. C'è un problema oggi, nel senso che noi sulla tavola mettiamo dei dati prodotti che non sappiamo da dove vengono molte volte, come il miele. Noi siamo sicuri che il miele sia di proprietà nostra, quindi viene fatto in Sardegna. Molte volte non è così. Sì, per fortuna a livello legislativo sul miele va indicato il paese di origine. Quindi se ho un miele comunitario, va indicato proprio lo stato in cui viene prodotto. Nel nostro caso troverete nell'etichetta paese di origine Italia. Oppure nel supermercato, solitamente, mieli di importazione, trovate la dicitura miscela di mieli extracomunitari con comunitari. Di solito Argentina, Romania. Però c'è un altro grave problema che sta arrivando. È stato scoperto questo scandalo proprio qualche mese fa dalla Cina. I cinesi sono bravi a sofisticare, diciamo, anche a trovare i metodi per aggirare anche i controlli. A quanto pare sta arrivando del miele contrafatto, meglio, un surrogato di miele, perché in effetti non è un miele. È un miele fatto, un miele artificiale, è prodotto con sciropi di riso, con aggiunte quindi di pollini e di altri elementi che lo rendono quasi uguale a quello vero. Ci sono le indagini, a quanto pare sono risaliti anche alla fonte, stanno cercando a livello internazionale di risolvere il problema. Fatto sta che comunque, la mancanza quindi di miele, di miele vero, sta portando anche gli imbroglioni, perché di queste persone si tratta, a trovare dei modi per entrare nel mercato dove non c'è la possibilità per chi lavora nel settore a livello corretto. Ieri era la giornata mondiale del volontariato e sono tante le associazioni qui a Oristano che si occupano di solidarietà e assistenza. Tra queste la comunità Il Seme, nata nel febbraio del 1985. Abbiamo fatto una visita alla sede della comunità a Corte Baccas. Siamo qui con Antonello Commina, presidente dell'associazione Il Seme. Le chiediamo quali sono le vostre attività e le iniziative che portate avanti in questo bellissimo posto. In un momento in cui la povertà cresce, sta diventando uno dei grandi problemi delle nostre comunità, l'azione del volontariato sta diventando sempre più importante e necessaria. Oltretutto nelle nostre comunità si è rivelato uno strumento formidabile per dare delle risposte coerenti anche nel tempo presente rispetto alla generalità dei bisogni. La nostra è una delle esperienze che è presente in Sardegna con una multiforme iniziativa in diversi ambiti dell'intervento sociale. opera e si rivolge prevalentemente all'ambito della disabilità, sia fisica che mentale, con la stessa cooperativa Il Seme, la stessa comunità. Il Seme nasce per iniziativa, ed era anche una delle prime in Italia, nasce per iniziativa di un gruppo di giovani con disabilità mentale. Poi la sua iniziativa si estende ad altri ambiti, in particolare all'ambito dell'esecuzione penale, del reinserimento sociale e dell'accoglienza delle persone in esecuzione penale. Oggi è sicuramente una delle più importanti esperienze in tal senso in Sardegna e opera anche in un lavoro di rete con altre iniziative diverse, dal samaritano di Arborea all'automo sintro di Nuro, alla collina di Don Ettore Canavera, appunto un importante lavoro di rete con un proprio coordinamento e di cui il Seme è stato uno dei principali protagonisti nell'ambito della promozione. L'altro ambito di intervento è quello relativo al supporto, tutte quelle iniziative tese a realizzare dei percorsi inclusivi per persone con bisogni speciali, in particolare giovani migranti qui nella nostra realtà. Abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza in termini di supporto all'accoglienza e supportiamo le importanti iniziative di microaccoglienza nella multifunzionalità dell'agricoltura sociale in provincia di Oristano e in Sardegna. L'altro ambito è appunto quello rivolto a favorire la realizzazione di opportunità inclusive di vita per i giovani in difficoltà nelle comunità rurali. Questa cosa lo facciamo attraverso tre principali ambiti tematici di iniziativa. Quella propria che è consueta, che ha caratterizzato la vita della comunità Il Seme e che ha anche appunto una, probabilmente la principale e prima esperienza in Italia è quella dell'agricoltura sociale, del recupero della funzione sociale dell'agricoltura contadina per favorire davvero dei percorsi riabilitativi, di reinserimento, inclusivi per le persone con difficoltà o con bisogni speciali. In tal senso sono importanti le iniziative rivolte all'area della sofferenza mentale e della disabilità e dell'esecuzione penale. Stetto rapporto con gli istituti penitenziari, principalmente con l'istituto penitenziario di massa, ma in Oristano, con attività dentro e fuori le mura. Sia ragazzi che vengono fuori e lavorano nelle diverse fattorie sociali della comunità Il Seme ma anche all'interno degli orti sociali della casa circondaria di Oristano, sia dentro la sezione dell'alta sicurezza, sia fuori con detenuti comuni in articolo 21. L'altro ambito è quello dell'archeologia, probabilmente anche in questo caso questo bellissimo rapporto tra comunità Il Seme e casa circondaria di Oristano ha prodotto importanti iniziative attraverso altrettanti progetti importanti che sono la linea dei progetti archeo, 1, 2, 3, che hanno realizzato importanti iniziative Fortongiano, Santa Giusta, per creare la base di quella grande iniziativa che poi è stata a Montebrama, dove la casa circondaria di Oristano è diventata anche nel rapporto con noi, con altre esperienze del terzo settore, un'importante iniziativa in campo archeologico. L'altro ambito di attività nella quale poi realizziamo i percorsi riabilitativi e inclusivi, abilitativi, è quello dell'arte. Sia l'arte in fattoria sociale, attraverso l'arte plastica, ma anche nel realizzare delle opportunità di confronto con artisti che vengono da tutto il mondo e lavorano con i nostri ragazzi nella nostra comunità, ma anche nell'ambito delle comunità locali. Per ultimo, la settimana scorsa si è concluso un bellissimo simposio internazionale dove sono state realizzate diverse opere donate poi alle rispettive comunità sulla russa e Santa Giusta, prima di tutto. L'altra iniziativa è quella che fa in modo che queste esperienze diventino lo strumento attraverso il quale realizzare delle importanti opportunità di economia solidale, attraverso il quale rilanciare, attraverso il supporto del volontariato, iniziative che innescano dei processi di sviluppo locale dove l'elemento solidale, l'elemento inclusivo delle persone diventa la base attraverso il quale costruire un futuro nuovo per le nostre stesse comunità nella quale i giovani davvero possono trovare un'importante iniziativa di vita e di futuro con delle comunità davvero a misura di ragazza e di ragazza e di ragazzo per creare davvero delle opportunità di vita future. Con quante persone lavorate e quante persone lavorano per voi? Nel corso della sua vita il SEME ha rappresentato quasi un portofranco per diverse migliaia di ragazze e di ragazzi con grandi problemi, quelli che spesso hanno vissuto i margini nelle nostre comunità. Ma soprattutto è diventato punto di riferimento nella costruzione di nuovi percorsi di vita. Pensi all'ambito della detenzione. I ragazzi che passano qui sono tantissimi. Mediamente ogni anno sono un centinaio di ragazzi che sono coinvolti in comunità. e parte sono ragazzi con problematiche legate all'esecuzione penale. Una cosa importante è che la recidiva dei ragazzi che passano qui è zero. Quindi questo è un elemento importante. Soprattutto vivono un momento di vita con tratti di solidarietà importanti che li portano a lavorare passo passo con ragazzi con disabilità sia fisica o mentale con ragazzi che hanno altre problematiche. E acquisire quell'essere di consapevolezza che li portano a valorizzare la propria vita e metterla al servizio dell'altro nelle nostre comunità. Se qualcuno magari ha intenzione di effettuare delle attività di volontariato qui al SEM qual è il percorso? A chi si deve rivolgere? Soprattutto che percorso deve fare per poter praticare l'attività di volontariato qua? All'interno della comunità ci sono diversi riferimenti ma il riferimento principale relativamente all'operatività della comunità è data da un'equipe multidisciplinare che comunque coordina tutte le diverse attività della comunità e cerca di coordinare anche l'attività dei volontari e favorirne il loro inserimento e valorizzare la loro opera all'interno delle diverse attività già strutturate della comunità. Il percorso è molto semplice nel senso che è un percorso di tipo conoscitivo e teso soprattutto a valorizzare ciò che un volontario può dare e metterlo al servizio dell'altro all'interno di attività strutturate che producono delle utilità. L'esperienza che fa un volontario qui è costruire dei tratti importanti all'interno di una logica di welfare generativo dove la persona davvero si sente utile in quel percorso ma anche l'opera che viene fatta è di un'importante utilità per la comunità nel suo insieme.